È un luogo un po' particolare, siamo sotto alla chiesa di Sant'Alessandro, è un negozio storico, siamo dal 1910. Dal 1910 al 2024 e oltre, è una lunga storia quella dell'impresa artigiana familiare Fusaia, che sorge nel cuore di Milano e da oltre 100 anni fa delle chiavi, le serrature e le casse forti il suo punto di forza. Il mestiere è cambiato negli anni, dalla classica chiave adesso l'accesso ai luoghi passa anche dal riconoscimento facciale e dall'impronta digitale, ci spiega Andrea Fusaia, il titolare della storica attività, che però ci tiene a chiarire che il mestiere è ancora manuale e artigiano. Un'impresa, la loro, che è anche un raro gioiello, che racchiude storia e cultura. Proprio lì dove sorge il negozio c'è un passato secolare che vive ancora oggi grazie all'attività. Si entra nel negozio, c'è tutto lo sviluppo del negozio e poi si arriva nel retro, che praticamente sono un po' dei spazi in comune con la chiesa. Poi ci sono cantine loro, una cantina nostra e lì ci sono dei resti romani, c'è anche una piccola, ossario anche, e poi si arriva fino a Piazza Missori, attraverso questi passaggi. C'è un'associazione, adesso posso farci fare nuovi, ma che ogni tanto portano i turisti e ci chiedono se possiamo venire, va bene, quindi noi faccio un po' la cicerone, quello che dico a voi, lo dico anche a loro. È nata, torno a 1910, prima c'era un po' di carbone e della lavorazione in ferro, poi i miei tre snonni hanno cominciato a fare proprio carpenteria, poi gli snonni hanno cominciato a evolverlo in serrature anche casseforti, poi siamo arrivati anche noi che siamo sempre più specializzati nelle serrature, casseforti e adesso in tutto in quello che è il controllo accessi, quindi biometria, siamo installatori per una dieta importante che fa controllo accessi per hotel, tutti i 5 stelle che stanno aprendo adesso l'abbiamo fatti noi, quindi siamo un po' orgogliosi di questa cosa. Comunque il futuro si sta portando in quella direzione dell'elettronica e quindi era giusto anni fa, siamo stati, abbiamo fatto una scelta giusta anni fa a cominciare a portarci su questo mondo. Il lavoro meccanico, la serratura ci sarà sempre ovviamente, la porta ci sarà sempre, è il controllo come gestiamo la porta che sta cambiando. C'è tanto lavoro, veramente una forte richiesta sia nel privato ma anche nel pubblico, anche perché questa azienda offre un pacchetto completo, quindi possiamo veramente dare una soluzione completa a un plazzo intero. Noi siamo artigiani, delle chiavi, le chiavi se le fanno ancora tantissime. È il nostro lavoro manuale, quindi sì, ovviamente quando si parla di controllo accessi c'è anche il lavoro di progettazione, di vidi su computer, però è sempre un lavoro manuale, devi usare anche il cervello ovviamente. Quindi una cosa bella che stupisce molto, magari questo simpatico è quando andiamo a un hotel 5 stelle che entriamo con la valigetta a fare le installazioni e poi mi metto a fare la programmazione. La gente guarda e dice ma è sempre lei che fa, è sempre io. Quindi il fatto di venire da un mondo meccanico ci ha un po' aiutato a fare tutte e due. Grazie a tutti. Grazie a tutti.